Ottavio Fatica, buonasera. Buonasera a voi. E benvenuto qui nel posto delle parole per condividere questo suo libro Lost in Translation pubblicato da Adelphi nella collana molto singolare Microgrammi. E da Microgrammi estraiamo questa scrittura Lost in Translation. Ottavio Fatica che è poeta, traduttore, consulente editoriale, tra le sue traduzioni ricordiamo Moby Dick, Il Signore degli Anelli e Il Limerick di Edward Lear. Per Adelphi ha curato tra gli altri i testi di Kipling, di Byron, Oden, London e Jets. Quindi Ottavio Fatica in questa conversazione lei continuerà a parlare delle cose che ha già raccontato molte volte e spero che tutte le domande non siano tutte uguali perché poi alla fine si corre anche questo rischio. Si corre questo rischio. Ottavio Fatica, raccontare questo libro è semplice e nello stesso tempo molto complesso perché è un libro che comincia dalla giungla, per così dire, è mica tanto per così dire, dalla giungla, e attraversa uno spazio di narrativa, di letteratura straordinario. Questo libro nasce partendo da alcuni contributi che lei ha realizzato per la radio della Svizzera Italiana. Ecco, e per la radio della Svizzera Italiana lei che cosa ha raccontato? Beh, è nato così, come invito a fare cinque interventi prendendo spunto della traduzione. E io allora mi sono inventato dei piccoli percorsi che poi hanno preso un itinerario tutto loro. Gli autori erano tanti e quindi io ci ho girato un po' intorno, però ho pensato bene di partire da Kipling, che è quello che veramente mi ha fatto capire che ero diventato un traduttore. Prima ho già fatto molte traduzioni, però... In che senso lei ha capito di essere un traduttore lavorando sulle parole di Kipling? Perché prima lo facevo per interesse, per guadagno, molto relativo, e poi per curiosità e per tanti, perché me lo proponevano. Quando mi hanno proposto Kipling mi sono messo a leggerlo e a rileggerlo seriamente, perché mi aveva creato molte difficoltà. Ma anche ho scoperto che c'era una parte sua poco nota, quella dell'ultimo periodo, e allora mi ci sono dedicato sia prima alla lettura e poi a proporgli agli editori, e quindi ho cominciato a curarli. Il primo libro che io ho curato, cioè ho scelto i testi, l'ho accompagnati da una lettura, è stato un libro di traduzione di racconti di Kipling. E allora ho detto, guarda, sono un traduttore per davvero accidenti. E ho continuato su quella linea. E dopodiché sono venute tante altre, e proposte mie, e proposte di editori. Però è nato seriamente con lui, altrimenti sarei rimasto un traduttore al quale ogni tanto propongono, o spesso, se poi hai conosciuto delle traduzioni, e lui dice sì o no. Io invece ho cominciato a fare una strada un po' diversa, soprattutto scegliendo e proponendo io le cose, seguendole, curandole in un certo modo. E quindi lo devo a lui. E quindi è giusto che aprisse il ciclo. Dopodiché hanno scelti alcuni, non a caso, ma mi è dispiaciuto non metterci Melville, ad esempio. Però erano soltanto cinque, e quindi poi hanno scelto. E quando si deve fare una selezione, per forza, qualcuno sta fuori. Però tornando a chi, Ottavio fatica, vedo qui una sottolineatura tra le tante. Lei è anche un sottolineatore con la matita. Io sì, sì, sono un guerriero della matita. A proposito, adesso piccola divagazione. Poi ci si divide tra chi scrive, chi sottolinea, chi non sottolinea, chi sottolinea con la birra o con la stile, eccetera, con la matita. Ma la domanda è molto banale, mi scusi. Ma lei con quale matita, sottolinea, con quale grafite anzitutto? In che senso? Nel senso la matita grassa, la matita 6. Ah, grassa, 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 grassa. E perché? Cioè stiamo parlando di... 4B, no, perché? 4B, io la supero. Io la supero, io uso solo da 8B in poi, pensi lei. A me 4B mi sembra sufficiente, però mi crea una piccola nuvola lì vicino. Non lo so, è una cosa scherzosa, ma c'è chi veramente sottolinea con la birra. Umberto Eco sottolineava i testi di Atanasius Kircher con la birra, insomma, voglio dire, i testi del Cinquecento. Quindi non c'è niente di dissagrante, ovviamente. No, infatti. Ecco, tornando però alla giungla di Kipling, vedo qui, come dicevo poco fa, la sottolineatura e questo spiega anche la traduzione, il lavorio della traduzione. La giungla è piena di parole che sembrano dire una cosa, ma ne significano un'altra. Ora, qui si compendia molto bene il lavorio della traduzione, del restare su una parola e comprendere che quella parola, non in senso letterale, magari nel senso giusto, proposto del senso della frase, quindi questa giungla le viene spesso incontro, Ottavio Fatica. Eh sì, no, tu ci entri, un aspetto dell'essere lost in translation è anche questo qui, cioè che ci sei perso dentro. Era un altro il significato e il motivo per cui abbiamo messo quel titolo. Ma una buona spiegazione di essere perso nella traduzione, tu sei entrato nella giungla dei segni, come Kipling entra, come Kipling, come Vogli entra e grazie a Kipling entra nella giungla naturale. Noi entriamo nella giungla intellettuale, nella giungla linguistica e è un po' un'avventura. I primissimi racconti dove Vogli e il ragazzo incontra un ispettore, ogni passo che fa lui dice qui dietro c'è una cosa, laggiù dietro quelle foglie ci si nasconde un'altra cosa, a 5 chilometri da qui stanno brucando certi animali oppure certi sono rampicati sugli alberi e questo ispettore della foresta è allibito. Il traduttore davanti alle pagine ha più o meno lo stesso atteggiamento di Mogli, sente presente 10.000 cose, 10.000 percorsi, 10.000 possibilità e poi va a, se occorre, stanarli oppure li tiene a bada, oppure se ne guarda bene dall'avvicinarsi a quel punto lì. E' un viaggio un po' complicato, affascinante, se tu ami questo tipo, è una sorta di caccia senza effusione sangue, inizia avrebbe detto qualcuno. E' la ricerca di segni e anche di sogni, no? Sì esatto, i segni li abbiamo inventati noi, sono questi piccoli disegni, una volta erano cunei i forumi, adesso li facciamo in un certo modo, sulla base di questi quattro segnetti che noi sogniamo, che pensiamo, che facciamo delle avventure della mente attraverso queste piccole cose, quindi i segni sono veramente l'inizio dei nostri sogni umani. L'inizio dei sogni che ci può portare sulle alte vette, però per arrivare alle alte vette c'è bisogno di qualcuno che ci accompagna, ad esempio uno scerpa. Uno scerpa, esatto. E in che modo ci si accompagna nella traduzione Ottavio Fatica? Ma questa scelta dello scerpa è perché è un ruolo fondamentale, ma al tempo stesso non so, Garbo le diceva servili, le traduzioni sono servili, a me non piace molto come termine, oppure dobbiamo usare il termine servo come lo intendeva Robert Walser, nel quale lui si immedesimava e in quella posizione, chiamiamola servile, diventava più forte, diventava più… diventava se stesso per davvero. Ecco, lo scerpa è un po' questa cosa così. I meriti se li prendono l'esploratore, gli altri, qualcuno che fa la spedizione, però lui ha fatto… è la guida, ha fatto tutto il lavoro lui, ha fatto… fino all'ultimo momento è lui, l'idea di stare un passo indietro è un po' difficile da spiegare, ma è come… non so, mi viene un altro raccontino come queste cose. C'è il nobile, l'aristocratico cinese che ha sempre il servo dietro che tiene l'ombrello sopra la sua testa, sempre. Ora, io non mi ricordo più dove l'ho letto, mi immagino che l'ho letto Bosworth, Ernest Bloch o da qualche altra parte. La persona libera è questo servo che sta dietro e copre l'altro, è l'altro che ha bisogno. lui che fa questo lavoro di servizio è in fondo libero, è un passo indietro e vede la situazione, oppure dovremmo tirar fuori i due uccellini dell'Archandogia o Panishad, non insomma, poi la facciamo troppo lunga e troppo difficile. Questo lavoro di scelpa è fondamentale, è tutto. Senza quello il libro originale non avrebbe una traduzione e un libro senza traduzione è come un libro senza ombra. Ha bisogno di un libro di una traduzione e così diventa veramente tridimensionale. Ma il traduttore è un'ombra solamente? Può darsi, oppure vive sempre in mezzo alle ombre, che potrebbe essere persi nella traduzione forse c'è questo rischio, uno sta in mezzo ai fantasmi. È anche un po' qualcosa di psicanalitico, questa cosa dell'ombra tra le parole. Però se è complesso tradurre la prosa, come ci ha raccontato lei in questa giunta, per esempio, su Kipling, in questo libro lei racconta anche come tradurre la poesia. Tradurre la poesia, se ricordo bene, è come rigenerarla, dargli una nuova ragion d'essere. Esatto. Che non vuol dire sostituirsi al poeta, ma qui il percorso è ancora più complesso. Sì, sì, certo. Però ci sono varie, non solo teorie, alle quali credo poco, ci sono varie pratiche del tradurre poesia. Alcune sono utili, anche quelle, c'è il testo a fronte, tu capisci il senso dell'originale e smettendo che abbiano capito quello che c'è nell'originale, hai già fatto un servizio utilissimo e io da tutte le lingue che non conosco, che sono infinite, ed essendo un amante della poesia devo leggerla in traduzione. Poi c'è un'altra possibilità, un altro tentativo, che è quello di rigenerarle, di proporle, reinventarle, che è un po' come quello che fa il poeta stesso sulla propria poesia. Cioè, che se ne dica, i poeti hanno un verso, hanno un momento, hanno un quid, hanno un qualcosa, dopodiché ci lavorano, ci lavorano, c'è anche quelli che dicono che le fanno in un battibaleno, in realtà ci lavorano tantissimo. E tradurre e tentare di riproporre la stessa cosa è una creazione che avviene in un secondo momento. Ma io ricordo benissimo poeti famosi che dicevano «Ah, quando io mi metto davanti a un testo che ancora non è riuscito, che ho gli elementi base, che devo fare non una revisione, ma proprio un autolifacimento, è il momento più creativo». Ecco, il traduttore di poesia che è intenzionato a ottenere questo risultato, più o meno, si muove in questa zona. È molto rischioso e non viene sempre bene e non traduci 400 poesie di Yeats a questo livello. Però alcune, sulle quali tu ti impunti, con le quali scatta la scintilla, magari saranno soltanto 5, saranno soltanto 10, può venire fuori una nuova poesia nella tua lingua che rispecchia, riflette e in qualche modo è a sua volta una poesia. E deve poter respirare. E questo significa che quando noi leggiamo la poesia e rimaniamo presi dall'armonia delle parole e dal ritmo, è proprio perché il traduttore ha dato un respiro nuovo. Eh certo, certo. Ma proprio tentando di fare quelle cose che sembrano impossibili, cioè dire quasi la stessa cosa con tutti i problemi interni della rima, della strofa, degli accenti, delle rime al mezzo, di tutto quello che uno vuole, dei giochi di parole, è sempre impossibile ma in realtà la ricchezza della lingua e nell'originale e nella traduzione è infinita. Io credo che non esista una traduzione impossibile, anche se alcune per me sarebbero impossibili forse se dovessi affrontarle. Qualcuno una volta o l'altra, magari un secolo dopo, come c'è riuscito un secolo prima, qualcuno ci riesce. Ottavio Fatica, vorrei a proposito della traduzione parlare della voce. Intanto la voce che è complessa nel dare il respiro a cui facevo riferimento poco fa, ma proprio quando lei traduce, rileggia ad alta voce le cose che ha tradotto? Spesso sì, io o meno alcune parti che mi accorgo che ne hanno bisogno. Ad esempio, credo di dirlo anche lì dentro, dentro il librino, non esiste prosa, cioè qualsiasi brano che ha un'intensità, che ha ritmo, a modo suo è poesia, anche se non è un endegasillabo, anche se non è per forza di cose. Lo diceva malorme, che era un signore che se ne intendeva più di tutti noi. Ed è vero, quindi quando io ho sotto gli occhi un brano di prosa, all'interno mettiamo un romanzo, addirittura anche di un saggio, perché se non sei un saggio di un grande scrittore, non so se è un saggio di Mandestam, oppure se è un saggio di Gottfried Bennett, a un certo punto tu stai leggendo della poesia in prosa, sotto forma di saggio. Allora lì a quel punto tu te la devi sentire all'orecchio, la rileggia ad alta voce, come ho riletto ad alta voce molte pagine di Moby Dick, o molte pagine di Kipling, o molte pagine di altri, di Byron, di De Quincy, oltre a quelle delle poesie, questo è ovvio. Ma lei quanto si sente nella sua attività emulo di San Cristoforo? Abbastanza, perché io non abbiamo sottolineato a quest'altro aspetto, stiamo viaggiando su tutte cose un po' astratte, no, no, io sono le cose fisiche, cioè tu ti metti sulle spalle un povero Cristo e lo porti da quell'altra parte del fiume. È una cosa fisica, tu hai i piedi nella melma, sei immerso nell'acqua fino al naso, sei fuori pochissimo, hai un peso sulle spalle, è una cosa profondamente fisica. E' questo l'host in translation, cioè tu sei perso più degli altri tra i fantasmi, ma in realtà poi stai usando le cose che fanno vivere il corpo e che tu riesci a riprodurre proprio perché ti impegni con tutto te stesso, che è una cosa psicofisica più che soltanto mentale. Psicofisica anche molto fisica, perché lei a un certo punto di questo libro dice che si prende questo carico sulle spalle, no, e poi piano piano da una sponda arriva all'altra. Il guado non sempre è semplice. No, 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 si può anche affogare durante la traversata, sì. Durante la traversata, sperando che non ci sia il diluvio, perché poi lei del diluvio ci racconta una favola che è veramente molto, molto, molto particolare. Perché questa favola, Ottavio Fatima? Perché, no, questa è un'altra punto perché è arrivata per ultima, io stavo decidendo a che pezzi mettere dentro e avrei messo volentieri in Moby Dick, l'ho già detto. Poi però ci ho ripensato, ho detto no, l'ho scritta in questo modo, che in fondo sono delle favole anche le altre, tutti gli autori scrivono in fondo una favola, anche quelli che sembrano più aridi o più freddi, e così, poi siccome era legato alla realtà che avevo, insomma, il librino è dedicato a una gatta, e allora che avevo davanti a me... Una gatta che si chiama Calico, con rabbia e gratitudine. Esatto, perché viveva con noi da molti anni e poi si era malata in quel periodo e mentre lo scrivevo stava lì sul divano davanti a me, sul bordo del divano, come si mettono loro in quel modo, come gli altri animali della giungla, quando stanno sui rami degli alberi, tutti i penzoloni stavano così, e mi guardava sofferente così, e io stavo finendo di scrivere questo, e quindi allora mi è venuto in mente di come scrivo una favoletta, perché evidentemente ce l'avevo nella mente. E era anche un po' per smentire la cosa di Babelica, siccome ho letto le cose di George Steiner che scrive La Torre di Babele, eccetera, eccetera, poi abbiamo sempre questo mito, e dico no, 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 prendiamola da un'altra parte, perché questo mito e il punto Babelico sono queste lingue in astratto, mentre invece il rapporto pre-diluvio era un rapporto, in tutte le favole, in tutti i miti, noi comunicavamo con gli animali, e credo comunicassimo con una sorta di traduzione molto fisica, di comprensione a quel livello, e in fondo è rimasta sempre dentro di noi, adesso lo stiamo facendo, nelle ricerche più recenti anche scientifiche si studiano sempre più a fondo i linguaggi degli animali che non sono poi così diversi dai nostri, sempre di più, insomma noi dovremmo avvicinarsi a quella zona lì, e anche questo è un sogno, ma però a me non mi dispiace coltivarlo. Che ricordi a Ottavio Fatica quando ragazzo, 16 anni, e forse è questo, quello è il periodo più straordinario, prendere in mano un libro e sognare, o comunque essere pervasi e invasi da quelle parole, che emozioni ha provato leggendo Selin a quell'età? Eh, a quell'età era, sì, è stato, anche quello è stato molto, perché fisico, perché mi ero immedesimato in un modo un po' esagerato, cioè avrei voluto, ho detto, essere lui, scrivere come lui, imprecare come lui, fare tutte queste cose così, poi per fortuna sono rinsavito col tempo, ma in quel momento ero particolarmente immedesimato, è come quando un ragazzo, lo vedi, è identico a quel cantante, si comporta come un attore che improvvisamente è come James Dean, no, e io era la stessa cosa con Selin, più o meno così, anche se era a un altro livello, in un'altra zona, ma è quella cosa che ti succede soltanto in quella stagione, ma mi ha segnato profondamente, purtroppo lo, credo di averla integrata, l'ho smaltita, non ho fatto qualcosa di quello che potevo utilizzare, poi sono cose giovanili che si perdono, però rimane il segno, insomma. A proposito di cose, a proposito di cose giovanili, Ottavio Fatica, ma lei come, come ha incontrato il fascino della traduzione? Eh, ma anche legato a queste cose da giovani, che, ma, troppo, non volevo studiare, non volevo fare niente, me ne stavo sempre a casa, ero un po' come i giapponesi di adesso, di Kiko Mori, stavo sempre a leggere, esatto, stavo sempre a casa a leggere, oppure a sentire musica, ero, ero esterofino, era anche la stagione dal fine degli anni Sessanta. E che musica ascoltava, ragazzo? Eh, ovviamente ascoltavo gli Stones, quando stavo Bob Dean, una sola roba lì, perché era il momento giusto per me, e allora me li traducevo anche i testi, era una delle cose che facevo, poi sui libri mi segnavo i pezzettini, che mi piacevano, cercavo di tradurmeli, sapevo l'inglese e poi il francese, cominciavo a fare queste cose, e poi da lì è nato, è nato tutto allora, sì, da quando avevo 17-18 anni, è nato tutto lì. Lost in Translation, il libro che abbiamo attraversato, in questa conversazione, è con Ottavio Fatica, l'autore di questo libro, pubblicato da Adelphi, nella collana Microgrammi, ma prima di salutarci, Ottavio Fatica, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni? In questi giorni sto leggendo una cosa che non c'entra assolutamente nulla, è una delle tante cose che devo fare, non di lavoro, in senso stretto, perché ce n'ho due o tre che dobbiamo scegliere se pubblicarlo o no, ma mi sto leggendo La Genesse di Swinburne, che è un libro del 1928, è uno studio in due volumoni, che non so perché ci sono 10.000 segreti e misteri dietro, anche se io non amo molto Swinburne, e invece, non lo sto studiando e ne sto tirando fuori un sacco di tesori, quello è un libro che sto leggendo per piacere, poi ne sto leggendo altri per lavoro, che a volte sono interessanti, a volte un po' meno, ma quello è un libro che sto studiando, me lo sono fatto venire, l'aspettavo, è arrivato su due bei mattoni, e è pieno, è un piccolo tesoretto, quindi forse ne tiriamo fuori qualcosa. Grazie davvero Ottavio Fatica e buona serata. Grazie a te.